a novembre arriva un milione di euro in bonus per la pesaro ferita dal covid 17 casi di contagio a sasso corvaro in provincia i nuovi positivi sono 89 consiglio regionale anche il pesarese baiocchi nel nuovo esecutivo delle marche promozione turistica presentati gli itinerari delle rocche di giorgio martini martedì 20 ottobre buona serata benvenuti al nostro telegiornale l'appuntamento ormai il consueto con le notizie fresche di giornata sul canale 633 come sempre affrontiamo le notizie di pesaro urbino e questa sera apriamo con una buona notizia infatti presentiamo proprio in questo prossimo servizio l'importante contributo economico che arriva alla città di pesaro dopo le ferite di questa prima ondata da covid 19 la città beneficerà infatti di un milione di euro e oggi in comune è stato illustrato fra quali categorie di cittadini saranno ripartiti questi fondi il servizio è di daniele sacchi un milione di euro da devolvere ai cittadini di pesaro è questa la cifra ottenuta dal comune che si è battuto per essere inserito nel novero delle città più colpite dalla prima ondata di covid 19 un milione che si inserisce in un bilancio comunale in equilibrio e che dunque l'amministrazione ha deciso di devolvere alle fasce più deboli alle fasce più sensibili e a quelle economicamente più ferite della città 300 mila euro saranno così erogati in buoni spesa 600 mila euro in bonus da spendere per bambini e ragazzi fino a 14 anni i restanti 100 mila euro andranno ad aziende e imprese che hanno registrato un blocco dell'attività dal lockdown in poi siamo riusciti ad ottenere questo milione di euro importantissimo per essere stati purtroppo uno dei comuni più colpiti nella prima ondata del virus in primavera ci siamo dovuti battere in parlamento per raggiungere alcune risorse ai comuni più colpiti oltre alle cinque province per le quali erano già stati stanziate delle risorse e grazie alla virtuosità del bilancio del comune il fatto che abbiamo un bilancio in pareggio siamo in grado di destinare questo milione tutto completamente ai cittadini pesaresi l'abbiamo deciso di utilizzare dei bonus perché è un una tantum straordinaria e tre bonus uno per la spesa per le famiglie più in difficoltà un buono simile a quello che avevamo già fatto in ad aprile per pasqua è un bonus invece per tutti i bambini da 0 a 14 anni e tranne le famiglie più benestanti che hanno un reddito netto nell'ultimo mese superiore 4 mila euro e un bonus invece per le imprese che hanno avuto sostanzialmente un blocco delle attività quelle imprese maggiormente colpite con più dell'ottanta per cento di calo di di fatturato una piccola risposta però molto importante che darà una mano bonus spesa darà una mano a fare la spesa tante famiglie in difficoltà contiamo almeno 1500 famiglie il bonus cresci il bonus bambini andrà a tutti i bambini da 0 a 14 anni 100 euro bambino da utilizzare in città per le spese legate alla crescita quindi dal pagamento del nido all'asilo ai libri scolastici ai trasporti pubblici fino al materiale di cartolibreria i tablet i computer e anche le spese sociali legate alle società sportive le associazioni di nei quali i bambini magari crescono quindi un'azione molto importante e dal 2 al 12 novembre si potrà fare la domanda da qui ai prossimi giorni renderemo tutto chiaro sul nostro sito sarà un meccanismo molto semplice basato sull'autocertificazione e di conseguenza anche veloce il terzo bonus va in aiuto alle attività commerciali sono 100 mila euro 100 imprese che potranno soffrire e abbiamo pensato a tutte quelle attività che hanno avuto un calo economico dell'80 per cento i fattori che abbiamo tenuto in considerazione sono anche il fatto che gli altri due bonus vanno a creare un indotto su alcune attività quindi abbiamo deciso anche tramite i codici a teco e facendo uno studio all'interno delle attività economiche anche con le associazioni di categoria quali sono quelle attività che sono state più danneggiate nonostante ci sia stata la riapertura ad aprile e anche in futuro quelle attività che comunque continueranno ad avere difficoltà e ad esempio ve ne cito qualcuna come l'agenzia di viaggio i tour operator o anche tutto quello che si occupa di pubblico spettacolo o anche le discoteche e abbiamo quindi considerato che all'interno del bonus si darà priorità a queste attività. I buoni spese saranno i buoni saranno diversi quindi a seconda della linea di intervento della misura della linea d'azione saranno del valore di 10 euro quindi abbiamo diminuito il valore di ciascun taglio questo servirà per per incentivare l'utilizzo anche nei negozi di vicinato quindi non soltanto supermercati ma per poter essere utilizzate anche in quelle attività di vicinato come può essere il forno può essere l'attività più vicino a casa e quindi il taglio sarà da 10 euro e saranno due diversi buoni di colore diverso perché uno il buono spesa sarà più di natura sociale quindi sarà destinato a quelle famiglie in difficoltà economiche l'altra invece sarà un bonus di natura più universale e quindi potrà essere utilizzato soltanto per quelle attività per quelle insomma in quelle attività che accompagnano la crescita dei bambini dei ragazzi. E siamo al secondo giorno dell'entrata in vigore del dpcm emanato dal premier Conte e fra i punti cruciali del decreto c'è la delega ai sindaci della possibilità di chiudere quelle zone più sensibili agli assembramenti. Nel nostro territorio si sta preparando in tal senso un lavoro di squadra fra tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino e in prefettura si riunirà giovedì prossimo il sindaco Ricci con gli altri sindaci assieme al prefetto per discutere di questa misura. Sì beh penso che ieri già ci sia stato un chiarimento tra il governo e l'Anci perché spetterà i sindaci individuare eventuali zone da chiudere strade piazze se sono a rischio assembramenti e spetterà al prefetto e alle forze dell'ordine fare i controlli. I sindaci non sono sceriffi è giusto che vadano loro ad individuare le aree più a rischio però non hanno un numero di polizia municipale sufficiente per gestire chiusure di spazi pubblici quindi il tema dei controlli deve essere in mano ai prefetti e alle forze dell'ordine. Questo è stato chiarito giovedì con il prefetto con il quale c'è un'ottima collaborazione faremo il punto sulla nostra città sulle città della provincia di Pesaro. Ed ora il consueto servizio dedicato agli aggiornamenti dei dati del coronavirus nella nostra provincia con particolare attenzione a quanto sta accadendo a Sasso Corvaro dove si sono registrati 17 casi che coinvolgono anche la scuola d'infanzia. 89 nuovi casi positivi al contagio da covid 19 su 1882 tamponi effettuati 16 di questi casi di contagio sono in provincia di Pesaro Urbino. E' questo il dato delle ultime 24 ore raccolto dal servizio sanitario regionale che denota una lieve flessione rispetto ai 98 casi del giorno prima e soprattutto del picco dei 204 episodi di contagio rilevati fra sabato e domenica. La guardia però resta altissima soprattutto perché è cresciuto il numero dei ricoveri. Sono 16 i pazienti nelle marche indegenza in reparti di terapia intensiva. Nel pesarese si tiene d'occhio soprattutto la situazione nelle scuole dove ci sono casi di classe in quarantena, liceo e mamiani e marconi di Pesaro così come analoghe situazioni si stanno verificando nell'entroterra. Il caso più delicato è attualmente a Sasso Corvaro dove ieri sono emersi 17 casi positivi al contagio. Il sindaco Daniele Grossi assicura come si stia prendendo ogni misura utile a contenere la situazione. La scuola è stata chiusa già da domenica scorsa, non questa domenica, la domenica prima e nel frattempo l'ASUR ha effettuato i primi tamponi su una sezione, perché all'interno della scuola dell'infanzia abbiamo due sezioni, quindi una sezione, quella con dei bambini che non state a contatto con il positivo sono già stati verificati, quindi in quella sezione abbiamo riscontrato otto bambini positivi e asintomatici, per fortuna tutti stanno bene e questa è la cosa più importante. Adesso domani l'ASUR effettuerà i tamponi ai bambini dell'altra sezione, quindi aspettiamo l'esito adesso dei controlli sui bimbi dell'altra sezione, in modo che non appena avremo l'esito avremo la possibilità di riaprire anche la scuola, la scuola dell'infanzia per tutti i bambini negativi che al momento sono tutti a casa. Altre persone con sintomi non ne abbiamo, anche collegate ai bambini, alla scuola, ai sintomatici, e ai sintomatici positivi, quindi nelle famiglie stanno tutti bene, non hanno sintomi, però faranno ulteriori verifiche, accertamenti sanitari, anche perché ci sono tanti asintomatici, quindi aspettiamo di conoscere adesso l'esito da domani con i nuovi tamponi, quindi già venerdì potremo avere un po' la situazione più sotto controllo. E si è parlato di Covid-19 anche nel primo consiglio regionale al quale lunedì ha partecipato anche il neo eletto Nicola Baiocchi, che sarà fra i pochi rappresentanti di Pesaro in consiglio. Proprio Baiocchi ci illustra le principali azioni di partenza della nuova amministrazione. È un momento molto particolare, è un momento bellissimo, perché il primo giorno di scuola è una sensazione bellissima, è una sise molto bella, ho conosciuto tanti colleghi nuovi, e chiaramente adesso bisogna metterci a lavorare, lavorare a testa bassa per la regione, per l'interesse della regione, per questa provincia e di questa città. Tu in questo momento sei uno dei pochi rappresentanti della città di Pesaro in consiglio regionale, credo sia fondamentale lavorare per la collaborazione tra amministrazione regionale e locale. Sì, l'ho espresso in maniera molto chiara anche in un quotidiano locale di ieri, perché penso che sia fondamentale la collaborazione tra l'amministrazione regionale e l'amministrazione locale, affinché si possano raggiungere e perseguire gli obiettivi assolutamente comuni, soprattutto in un momento complesso come questo. In comune la tua carriera politica, fin qui è stata l'opposizione, ora ci si trova dalla parte che conta di più, quella della maggioranza, e quindi aumentano le responsabilità sicuramente. Aumentano le responsabilità, ma lo abbiamo voluto, lo abbiamo meritato, adesso dobbiamo essere in grado di mantenere il programma elettorale e cercare di portare avanti tutti gli obiettivi in questo momento veramente complesso. In effetti è un momento in cui c'è un governo nuovo alla regione, ma non c'è il tempo del rodaggio. No, non c'è tempo, dobbiamo subito metterci al lavoro, è quello che stanno già facendo la Giunta e di conseguenza il Consiglio regionale, non c'è tempo per fare tante riflessioni, bisogna solamente mettersi al lavoro nel modo più serio, più veloce possibile. Due temi caldi sono state infrastrutture e risolvere l'annoso problema post-sismico nella parte meridionale della regione. Diciamo che questi temi in questo momento rischiano di essere scavalcati da un'emergenza sanitaria che incombe e che forse va davanti alla scaletta delle priorità. Chiaramente la Giunta è già al lavoro e al Consiglio su questi temi, come dicevi benissimo, legati all'infrastruttura e a tutte le altre tematiche legate al mondo del lavoro, delle aziende, ma in questo momento l'emergenza Covid sicuramente sta prendendo principalmente l'attenzione del governatore, perché è giusto porre l'attenzione in maniera molto chiara su questo problema che sta tornando fuori in maniera molto molto importante. Ed ora torniamo dalla regione alla provincia di Pesaro Urbino, perché nell'ultima tornata elettorale in provincia, come ben sapete, sono stati eletti anche due sindaci. La novità è Stefano Parri, nuovo sindaco di Sant'Angelo in vado, mentre la conferma è Giuseppe Paolini per quanto riguarda Isola del Piano. Allora ascoltiamo proprio Paolini che continuerà a ricoprire questo doppio incarico sia di sindaco del paese che presidente della provincia. È stata una campagna che si era iniziata diciamo da gennaio-dicembre perché si prevedeva di votare a maggio. Poi il Covid, tutto quello che è successo l'ha fatta scivolare fino a settembre e diciamo che è stato perlomeno per quello che mi riguarda una campagna elettorale molto molto soft. Vorrei solo dire una cosa, il giorno sabato che il silenzio elettorale, ma si sa che il silenzio elettorale non esiste, si passa nei paesi piccoli, nelle case. Io sono stato a trovare le persone anziane, ma veramente le più anziane, che hanno contato qualcosa nella mia vita, sia nella formazione sia nell'insegnarmi un modo di vivere. Un modo di vivere. Siamo stati parecchie ore, sono stati parecchie ore insieme in queste case, con queste persone, per cui diciamolo vissute in maniera molto soft, molto leggera, senza essere né aggressivo né usare dei toni al di sopra delle righe. Per quanto riguarda la riconferma sindaco di Isola del Piano, adesso gli interventi riguarderanno le piccole attività del Comune per la loro sopravvivenza anche a causa del Covid? Noi di piccole attività nel Comune abbiamo alcuni artisti artigiani che lavorano e fanno dei grandi lavori oltretutto, se no noi abbiamo due attività molto forti. Abbiamo l'LC Mobili che impiega circa 200 o più dipendenti e che ha diverse strutture, capannoni sparsi nella provincia e poi abbiamo anche la cooperativa Girolomoni che è una cooperativa che opera dagli anni 70 nel settore del biologico che dà lavoro a 70 persone con il suo pastificio e il mulino, per cui noi cerchiamo di andare incontro alle realtà di queste due aziende, perché essendo piccolo il paese però ha delle attività produttive che sono riconosciute a livello mondiale. È naturale che devi sostenerle, devi cercare di andare incontro con delle agevolazioni per quello che è possibile perché il Comune non è tanto ricco e poi lavoreremo per rifare e ridare un'immagine diversa al paese di Isola del Piano che negli anni 60 è stato completamente stravolto da un punto di vista architettonico. Abbiamo avuto anni fa una donazione che grazie ai 6.000 campanili siamo riusciti a ristrutturare da un'anziana signora di Isola del Piano che è diventata adesso un luogo di incontro sia per gli anziani e nella parte alta del palazzo primo e secondo piano c'è una realtà di giovani che fanno parte del progetto dopo di noi ed è veramente una ricchezza e una bellezza poter incontrare questi ragazzi, queste persone che sono diversamente abili ma che hanno uno spirito e una forza che è impressionante e vederli magari delle sere giocare a carte di sotto dove c'è lo spazio degli anziani, giocare a carte con gli anziani o discutere con questi è una cosa che rallegra l'anima. Come gestire al meglio il diabete e la diabetologia con il protrarsi dell'emergenza covid-19? E' questa la tavola rotonda che si terrà nella sala consigliare del comune giovedì 22 ottobre alle ore 18 organizzata dall'Associazione Diabetici di Pesaro del presidente Paolo Muratori e dalla quinta commissione salute alimentazione sport della presidentessa Maria Rosa Conti per indagare il futuro della cittadinanza alle prese con questa patologia. Si è tenuto lo scorso fine settimana l'evento Una Serata Speciale organizzato dalla Proloco del Gallo di Petriano. Io ho condotto la serata, ho avuto il piacere di condurre questa serata ed ho anche intervistato tra gli altri Giorgia Righi affetta da una malattia degenerativa ed alcuni atleti paralimpici raccontati nel libro Non Siamo Normali di Beatrice Terenzi ed Elisabetta Ferri. La serata è stata un momento di riflessione sulla vita e chi grazie alla tenacia e alla forza di volontà ha saputo raggiungere traguardi importanti. Dal 25 ottobre all'8 novembre AMAT lancia l'evento Le Belle Domeniche per conoscere storia, arte e natura dei tesori nascosti della provincia pesarese e in particolare a Mondavio, Sasso Corvaro e Urbania. Il primo appuntamento è previsto domenica al Teatro della Rocca di Sasso Corvaro che alle 17.30 sarà illustrato dai volontari della Proloco e accompagnato dal concerto Romanze senza parole di Eugenio della Chiara. E proprio alla Rocca Ubaldinesca di Sasso Corvaro sono stati presentati gli itinerari delle Rocche di Francesco Giorgio Martini. Si tratta di un nuovo format di promozione turistica nato dagli itinerari della bellezza di Confcommercio. Scopriamoli in questo prossimo servizio. L'itinerario delle Rocche di Francesco Giorgio Martini è il Palazzo Ducale di Urbino, questo è il nome che abbiamo dato a questa nuova guida turistica. È l'ennesima iniziativa che scaturisce dal progetto itinerario della bellezza. Abbiamo sempre sostenuto che l'itinerario della bellezza è un grande contenitore all'interno del quale noi estraiamo delle pillole, estraiamo come dicono quelli bravi dei cluster turistici e in questo caso abbiamo pensato di realizzare un itinerario turistico legato alle Rocche che Francesco di Giorgio Martini ha realizzato, ha disegnato all'interno del Ducato di Urbino ma nei luoghi che fanno parte dell'itinerario della bellezza. Noi vogliamo dare ai turisti un'altra opportunità per visitare il nostro territorio cercando di valorizzare al meglio le eccellenze che questo territorio ha e indubbiamente le Rocche di Francesco di Giorgio Martini e il Palazzo Ducale di Urbino sono una delle eccellenze della nostra terra. È un altro itinerario importantissimo proprio a livello turistico perché è veramente un qualcosa di emozionante che può dare quel valore aggiunto al turista che va in questo momento alla ricerca proprio di emozione e l'itinerario delle Rocche è proprio una scoperta di un tesoro delle Rocche, di quello che c'è all'interno come se fosse veramente uno scrigno da cui si può trarre valore. Quindi credo che in questo momento dove abbiamo bisogno veramente del turista che va a cercare emozioni e nel nostro caso abbiamo veramente tutto nel nostro territorio, abbiamo arte, cultura ed enogastronomia, il turista può trovare veramente tutto, cosa che in questo momento credo sia fondamentale per riprenderci anche a livello economico dove possiamo veramente dare qualcosa in più. Finalmente abbiamo messo nero su bianco un bellissimo progetto, un progetto che parte proprio dalla valorizzazione dei borghi, delle nostre eccellenze, delle eccellenze architettoniche che abbiamo sul nostro bellissimo territorio, sul Monte Feltro, a ridosso d'Urbino e quindi è il momento giusto, nonostante il momento critico e il Covid, di partire, di progettare adesso per la futura rinascita, perché rinasceremo da questo momento e vorremmo rinascere con qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, parlando proprio della bellezza, parlando dei nostri borghi e delle nostre eccellenze e quindi con la ConfCommercio, e ringrazio il direttore Amerigo Verotti, abbiamo messo a punto proprio questo nuovo itinerario, un itinerario che parla di architettura, delle bellezze dei nostri borghi e dei nostri partimoni storici, culturali ed artistici. Proprio da questo confronto con Amerigo è nato questo progetto, quello di valorizzare un percorso legato a un grande architetto, Francesco Di Giorgio Martini e quindi ho chiesto proprio alla ConfCommercio di partire, di inaugurare questo progetto proprio qui, a casa nostra, a ridosso proprio di questo bellissimo capolavoro di architettura militare, realizzato da Francesco Di Giorgio Martini e noi siamo orgogliosi di avere qui alle nostre spalle questo patrimonio dell'umanità, un patrimonio che ha salvato anche l'arte, l'arte italiana, i capolavori dell'arte italiana, perché qui durante la seconda guerra mondiale proprio il sovrintendente Pasquale Rotondi, delle arti di Urbino, ha ricoverato oltre 7.000 capolavori dell'arte italiana proteggendoli dentro questo capolavoro di architettura militare. Lo stesso Pasquale Rotondi riconosce nella struttura della Rocca di Sassoprovaro la solidità, quindi ritiene il luogo ideale la Rocca di Sassoprovaro per proteggere l'arte. Ed ora passiamo allo sport, in modo particolare parliamo di Vispesaro, lo stadio Benelli domani infatti tornerà a riaprire le porte al suo pubblico per una partita di campionato appunto che vede la squadra pesarese ad otto mesi dall'ultima volta. In Vis Triestina in programma domani alle 18.30 per la sesta giornata di campionato saranno ammessi allo stadio solo gli abbonati che hanno confermato la tessera dello scorso campionato. L'attuale DPCM prevede infatti che si possano aprire al pubblico gli stadi solo al 15% della capienza, il che significa che per il Benelli di Pesaro saranno ammessi al massimo 449 spettatori, una cifra che coincide con l'attuale quota abbonati della squadra biancorossa. Dopo la brutta sconfitta con Trento la Carpegna Prosciutto Basket si consola sorridendo sul fronte sponsor. Umbra Control, azienda leader nel settore dei sistemi integrati, ha infatti siglato il contratto di sponsorizzazione per la stagione 2020-2021, confermando così il proprio supporto al basket pesarese per il quarto anno consecutivo. E siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, vi ricordo sempre il nostro numero per le segnalazioni, mi raccomando mandateci messaggi whatsapp al 370-366-7210 e vi ricordo anche qual è la programmazione di questa sera su Rossini TV. In prima serata alle 21.15 c'è la prima puntata ufficiale di White Dog, questo programma dedicato alla musica, dedicato ai locali della provincia di Pesaro Urbino, questa sera saremo al Caffè della Fortuna con il trio Caos. Poi le prossime puntate vi daremo comunicazione quando andranno in onda perché dobbiamo vedere insomma se ci sono nuovi dpcm per quanto riguarda i locali che fanno pubblico intrattenimento. E domani non perdetevi il nostro appuntamento con la rassegna stampa, alle 7.20 infatti saremo in diretta sia tv che facebook. Buona serata!